Faremo un consultivo di com'è andata a Milano e poi apriremo sicuramente la prossima piazza che è Bologna credo. Sì, la prossima piazza è Bologna domani e domenica, poi ci spostiamo, cominciamo a scendere ancora e andiamo a Roma, poi a Napoli e poi a Bari. Quindi lunedì o martedì potremo fare un collegamento per capire com'è andata a Milano e a Bologna. Noi possiamo assolutamente risentirci poi lunedì, facciamo un punto della situazione e vi raccontiamo, saremo in giro per produttori a Bologna e quindi sicuramente possiamo raccontare un altro pezzo di questo progetto dalla terra, però diciamo direttamente dalle aziende agricole, direttamente dalle campagne perché questo è l'altro versante assolutamente ineludibile di questo progetto. Grazie Francesco, buon lavoro, buon weekend e ci risentiamo prossima settimana. Grazie a voi, quando volete noi siamo in giro e vi racconteremo quello che succede in questo paese dal punto di vista del cibo e dell'innovazione. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.